Jack, ho installato il lanciamissili preso dal velivolo di Phoenix! Cercano di scappare! Tolpiamo i motori finché siamo in tempo! Cercano di scappare! Tolpiamo i motori finché siamo in tempo! Oggi, signori miei, non mi acciufferete! Bel lavoro! Stanno rallentando un po'! Manovra special blocco! Ci stanno massacrando! Qualsiasi manovra spezzerà il blocco, Jack! Ehi, baby! Non puoi sfuggire al fulmine arancione! Riparerò il velivolo con i rifornimenti! Sponto! Sponto! Fai l'arrivo! Attento! I pazzi di ricambio non sono infiniti! Ben fatto, Jack! Restano due torrette! Non ce la faremo mai! Wuhu! Beccate! Fatelo atterrare, ragazzi! Direi che sia dimostrato più che determinato! Noi! Sp�la! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto bene? Phoenix, no. Phoenix? Già questa confidenza? Non saresti dovuto venire. Al contrario. Ora questo mostro ha la possibilità di vedere chi è veramente. E questa piccola sfera ci mostrerà cosa fare. No! Voi due, fermatevi! Dobbiamo riprendercelo. E fino a che non ci riusciamo, tregua. Ma lui è... Tregua, ora! Datevi la mano. Bene, ora torniamo all'unica speranza che abbiamo. Vieni da me quando hai l'eco oscuro, così potrò esercitarmi come saggio di eco. Il capitano ha detto di lasciarvi usare l'hangar. Dovreste riuscire a metterci il velivolo e tutti i moduli. Usa quella console per equipaggiare i velivoli e potenziare i moduli. Posso anche venderti dei moduli in cambio di rottami metallici. Ma non aspettarti sconti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi fa anche usare uno dei nostri Skyrider bimotore. Secondo me è troppo generoso. Vi fa anche usare uno dei nostri Skyrider. Vi fa anche usare uno dei nostri Skyrider. Mi piacerebbe trasformare il tuo velivolo in una freccia dei cieli. Credi di potermi battere in una corsa a bersagli? Vi fa anche usare uno dei nostri Skyrider. Grazie a tutti. 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 Ehi, guarda! Sembra un altro di quegli idoli! Ehi, gas giallo! Potremmo usarlo per andare più veloci! Carburante per razzi extra! Jack, qui Phoenix. Jack, qui Phoenix. Ehi, guarda! 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 Piedi in basso! Piedi in basso! Ehi, guarda! La vita ha il livello Semplicemente, Quando fa nessun' barка! Ehi! Oставляga! Kiira non sarà nella pelle quando tornerò con il Detector. Ci vediamo al Gareone. Forse... Grazie a tutti. 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 Che ci fai qui? Sono su quest'isola da una vita e voi belli siete il mio biglietto di sola andata. Beh, non ti sperticare troppo. Ormai siamo abituati a naufragare sulla tua isola. Wow, mi piacerebbe trasformare il tuo velivolo in una freccia dei cieli. Credi di potermi battere in una corsa a bersagli? Grazie a tutti. Ma le armi ci ha devastare in una corsa a tutti. Ma le armi ci hanno devastato. Devia per evitare i colpi! Alla corsa a tutti. Grazie a tutti Ho trovato questo... forse lui ha trovato me... ma comunque è un ottimo meccanico e credo possa aiutarci Per caso sai chi sei, vecchietto? No, è la tua navicella, ottima costruzione, buon giunto sul motivatore di sterzo Allora dov'è il piccolo dispositivo che tutti pensano salverà il mondo? Bene, bene, bene... straordinaria manifattura, buone tolleranze, altissima qualità Non v'aiuto, ma hai detto... lo so cosa ho detto, ma so anche riconoscere i problemi quando li vedo Il tipo di problemi che cerco di evitare Ricordi qualcosa? Forse... sì... non so... vedo un vasto magazzino pieno di eco, enorme e oscuro Ricolmo... fin dove la vista può arrivare... Per favore, io... noi dobbiamo trovare una nuova fonte di eco per riequilibrare il mondo Ti prego... È il viso più bello che vedo da tanto tempo... questi non sono altro che guai... ma per te, mia cara... farò del mio meglio Vedi, tutto il dispositivo ha un meccanismo autobloccante... non tutti lo possono usare o ne possono abusare E se punti il timer di blocco e inverti la polarità... fatto! Nel detector non c'è più molta energia... credo punti verso una nuova cella combustibile Forse aumentando la potenza funzionerà meglio... Punta direttamente al di là della soglia... pericoloso, per non dire di peggio Beh, non abbiamo altra scelta... le tempeste di eco peggiorano Vero... Cloud, preparati a partire... ma prima... portaci al salto lontano... ci servono rifornimenti per il lungo viaggio Sulla breccia, amici miei... ancora una volta! Jack, un pirata ha raccolto un reperto tecnologico dei Precursor Perdendoci un po' di tempo posso inserirlo nel tuo scettro armato Jack, vecchio mio... mi serve qualcuno che voglia al salto lontano a prendere i rifornimenti per il viaggio Che ne dici di andarci tu? Ci andrei io, ma... qualcuno ha ridotto i miei motori a un colabrodo e... devo restare qui a ripararli Ok... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sei l'unico in zona. Aiutaci! I ricognitori hanno avvistato un cargo Aeropan nel nostro spazio aereo. Se lo abbatti subito avrai una parte del carico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo bersagliati! Mostra loro qualche acrobazia! Smanovra e spezza il blocco! Altri colpi e questa carretta ci si polverizzerà sotto i piedi! Altri colpi e questa carretta ci si polverizzerà sotto i piedi! Attento! I pezzi di ricambio non sono infiniti! Riparerò il velivolo con i rifornimenti! Sei l'unico in zona! Aiutaci! Cerca di tornare tutto intero! Vai in fretta stavolta! Il cargo è quasi fuori dalla nostra cittata! Sei l'unico in zona! Aiutaci! Cerca di tornare tutto intero! Vai in fretta stavolta! Il cargo è quasi fuori dalla nostra cittata! Città di tornare tutto intero! Quelle armi ci hanno devastato! Devia per evitare i colpi! Un'altra città di tornare tutto intero! Grazie a tutti.